Questa settimana andiamo nella città di Milano, soprattutto nella squadra della Pallacanestro Milano, una squadra storica, partecipa alla Serie C Gold, quest'anno con grandi ambizioni, ne parliamo con Andrea Paleari. Ciao Andrea, benvenuto. Grazie mille, saluto a tutti. State percorrendo una stagione difficile per tutta questa questione del Covid, però le vittorie sono dalla vostra parte, anche sempre di un solo punto con un po' di fatica, però state ingranando. Sì, assolutamente, diciamo che è una stagione molto particolare, abbiamo iniziato la preparazione, poi siamo stati bloccati, siamo ripartiti a fine gennaio, inizio febbraio e insomma, dopo un anno di inattività è un po' più complicato, bisogna, diciamo, ogni anno di ingranaggi. Sì, però nonostante tutto siamo riusciti a portare a casa delle partite importanti, anche di giovanità e partite di trasferta, anche se solo di un solo punto. Diciamo che i finali ci piace viverli intensamente. Quali sono gli obiettivi della Pallacanestro Milano per quest'anno? Beh, gli obiettivi del padrone Daniele sono sempre gli stessi, cercare di arrivare il più lato possibile, costruire qualcosa che si possa creare e portare avanti negli anni, quello che stiamo cercando di fare dallo scorso. Purtroppo queste interruzioni sono complicate per noi, ma come per tutti in questo momento, insomma, è molto difficile valutare anche il futuro. Quindi lo prendiamo di giù come viene, una partita alla volta e vediamo dove possiamo arrivare e cosa possiamo fare quest'anno.